E' con noi il generale Castello, generale di brigata, comandante Legione Palermo per questo grande evento dedicato all'istruzione, all'università e alla formazione. E' un evento importante, con noi carabinieri aderiamo con grande gioia perché siamo parte integrante della formazione. Facciamo parte di questo percorso di legalità che sviluppiamo con le università e con le scuole in un percorso ben consolidato con i giovani delle scuole. Siamo presenti non solo nelle aule ma anche nelle associazioni per collaborare con i regazzini e portare avanti il discorso della legalità. Lo abbiamo fatto con l'albero Falcone, con le piantine che sono state distribuite presso le scuole, lo abbiamo fatto con i libri che sono stati donate nelle biblioteche delle scuole di periferia. Continuiamo questo percorso di legalità anche per una legalità rivolta alla tutela dell'ambiente e alla tutela del patrimonio culturale. In questo l'arma con i suoi comandi è in primo piano nella tutela di questi beni preziosi.